E' arrivata la NET Mobile che annuncia una banda larga e forte. Ma quante parole avrà detto tuo fratello questa settimana? Due. Computer e Winsor. Venite a scoprire il malolinguaggio della fibra mozzica! Se questo raggio luminoso rappresenta un'informazione, ecco che la fibra diventa uno strumento per trasmettere informazioni a grande distanza. Alcuni dicono la cultura è tutta infinita. Facciamo fare la pipì al fratellino. Oh, mi sono sempre davanti a sto computer, stai. Eh? Bravamente informati che a banda larga permette di veicolare gli attivi di immagini e informazioni in alta velocità. Salve, le posso lasciare dei volantini che annunciano l'arrivo della fibra ottica? Che che è la fibrica ottica? Eh, è la nuova tecnologia multimediale. Brug non va svegliato. La rete fotografica sarà interromessa in tutto attraverso l'inizio di Cassino a tutto il grado del suo sistema nazionale e quindi del sistema mondiale delle vere e direi di cera. Ormai i vostri computer saranno in grado di sgacciare simultaneamente bombe di informazioni capaci di raggiungere ogni punto della rete. Unicasnet anticipa il futuro. È arrivato il nuovo mondo. È arrivato il nuovo mondo. È arrivato il nuovo mondo.